voi che cosa in generale vi aspettate da un backstage di un film cosa sperate di vedere mi devi mettere la curiosità in un certo senso o magari non so perché poi il backstage sai i backstage sono 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 veramente diversi l'uno dall'altro dipende dal film dipende quando li vedi quindi è sempre rischioso a volte vedere un backstage ma secondo me dovrebbe essere una specie di prodotto neutro non so se vi spiego cioè che non dovrebbe senza compromettere l'integrità dell'opera del film insomma secondo me dovrebbe essere una specie di cortometraggio cioè dovrebbe prendere una tematica che la ruba effettivamente dalla trama del film la fa sua e i protagonisti effettivi sono effettivamente tutta la troupe la crew quindi è come se raccontasse una una realtà in più ma che comunque non fa parte del mondo del film non so spiegarci io lo realizzerei così un backstage mi vivrei il film capirei bene effettivamente la visione del regista e non dico che mimerei quello che ha lui ma cercherai comunque di metterla perché comunque chi fa backstage è comunque anche lui un regista e chi lo monta è un montato cioè come se fosse un prodotto a sé e quindi secondo me cioè voglio vedere quella cosa in più che mi porta effettivamente entrare nel mood del film ma anche uscirne come se avessi visto comunque un cortometraggio un qualcosa che comunque mi ha dato qualcosa alla fine non solo guarda il film ti ha lasciato il tema anche no che senza vedere il film comunque qualcosa ti ha fatto riflettere tu lorenzo e piace vedere appunto i colleghi la troupe che lavora e ovviamente raccontare le scene più complicate del film o la scena più che regista pensa che catturerà di più il pubblico in sala cioè far vedere nella sua complicatezza come è stata realizzata il tema dell'educazione dello spettatore quindi mostrare come funziona creare un film una scena anche sì il tema educativo del backstage è interessante perché senz'altro se non hai la possibilità come pochi hanno cioè solo chi lavora sul set c'ha un ruolo sta sul set e vede quelle cose lì altrimenti non hai la possibilità quindi è sicuramente uno degli obiettivi dei backstage di teatro le quinte quello di educare all'industria e anche a studenti di cinema immagino quanto siano anche dei prodotti veramente di valore ricercati non solo libri di storia per studiare la storia del cinema ma anche capire come funziona realizzare un film questo senz'altro uno degli obiettivi dei backstage Grazie a tutti.